salve a tutti ragazzi video misterioso in messico in mezzo alle montagne registrato un ufo con un alieno che fuoriesce quindi lo so sembra assurdo ma guardate bene ragazzi eccolo lì nel cerchio rosso qualche cosa di strano quindi eccolo qua ragazzi cerchiamo di vedere più o meglio che possiamo anche perché la qualità è pessima lo so però cerchiamo di guardarlo con attenzione ecco qua si apre e fuoriesce qualcosa di strano mi dispiace che la qualità video è pessima eccolo qua ragazzi però qualcosina si riesce a vedere ecco questo omino mi sembra un omino della michelin che cammina e va forse nel bosco non lo so ragazzi fatto sta che chi ha fatto questa registrazione sicuramente aveva un brutto un pessimo cellulare comunque ragazzi lasciate come sempre il vostro commento lo so ragazzi che la qualità video è pessima però ci dobbiamo arrangiare come sempre al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero ecco qua vi voglio far vedere lo meno della michelin come l'ho chiamato io un po' più ingrandito e vediamo cosa riusciamo ad ottenere quindi cerchiamo eccolo qua ragazzi più di questo non riesco proprio ciao a tutti ragazzi e alla prossima news